Con il secondo convegno internazionale di dialettologia, la Basilicata diventa protagonista di progetti e dibattiti incentrati sul confronto e sulla valorizzazione dei dialetti. In tre giorni di appuntamenti a Potenza, Venosa e Matera, studiosi, ricercatori, studenti e semplici appassionati hanno portato e continueranno a portare avanti il progetto ALBA, dare alla regione e alla comunità scientifica un atlante linguistico della Basilicata, un documento che salvaguardi il dialetto lucano e ne faccia sempre di più uno strumento di comprensione della cultura e dei valori della nostra terra. Questi progetti su cui noi fidiamo per la nuova ricerca della nostra regione saranno finalizzati all'occupazione, nel senso che il risultato finale della ricerca dovrà comportare la possibilità occupazionale per i giovani ricercatori, per questi giovani laureati che si cimenteranno in questa fase di nuova attività formativa e avranno la possibilità occupazionale presso aziende o addirittura la possibilità di poter avviare da solo di un'attività autonoma, con un finanziamento di un'attività di start-up. Per ulteriori informazioni sul progetto ALBA è possibile telefonare al numero 0971 20 24 84 o inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica segreteria progetto ALBA chiocciola gmail.com 0971 20 24 84 o inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica